Dal 1919, quando venne costruito, con la sua particolare forma cilindrica e la sua altezza, che tocca quasi 50 metri, ben oltre la media, il campanile della chiesa di San Pietro Apostolo di Cotrebbia rappresenta un simbolo inconfondibile che svetta nella piatta campagna del Po. Nelle scorse settimane è stato impacchettato e circondato da ponteggi. Grazie a una cura da 300.000 euro tornerà all'antico splendore. Dalla bellezza dei luoghi e dalla conservazione, quindi dei beni culturali, che sono veri e propri beni comuni, passa tanto della qualità della vita. Il recupero della bellezza è uno degli obiettivi su cui si dovrà sempre più lavorare in futuro perché la bellezza dei nostri paesi è un elemento dell'identità e attribuisce ai paesi senso di comunità. A promuovere il recupero della torre, dalla quale due anni fa cadde anche una pesante guglia metallica, è la diocesi. Tramite un finanziamento al 90% del bonus facciate governativo, il contributo del comune di Calendasco e di 10.000 euro di un'azienda piacentina. I lavori basati sul progetto dell'architetto Giuseppe Moresi di circa dieci anni fa e diretti ora dall'architetto Filippo Ormani dovrebbero concludersi a fine marzo quando si prevede anche una visita guidata al cantiere. Si tratta di un manufatto alto a circa 50 metri, quindi l'impegno dal punto di vista esecutivo è un impegno sufficientemente oneroso.